Il giudice del lavoro ha condannato l'ASL dell'Aquila al pagamento nei confronti dei ricorrenti della maggiorazione dell'indenità di pronta disponibilità per i turni svolti dal 2015, oltre il sesto turno mensile. Una battaglia vinta dalla CGL che aveva aperto questa avvertenza dopo le continue sollecitazioni rivolte all'azienda sanitaria. Il sindacato già era stato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro e successivamente ha depositato tramite l'avvocato Ramicone un ricorso per riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori dell'ASL la giusta retribuzione. Lo scorso 4 giugno il giudice del lavoro ha dato ragione alla CGL condannando l'ASL al pagamento di somme che per ogni lavoratore vanno da un minimo di 1.700 euro a un massimo di 6.600 euro. Sono anni in realtà che l'FP CGL denuncia situazioni di mancato rispetto delle vigenti norme legislative e contrattuali. L'ultima sentenza rappresenta un passo verso il ripristino della legalità restituendo alle lavoratrici e ai lavoratori i propri diritti. Ma dalla CGL, sempre oggi e sempre alla ASL, arriva un'altra abordata sulla raccolta firme per quattro referendum abrocativi di norme sul mondo del lavoro. Il sindacato aveva annunciato alla ASL la loro presenza con un banchetto dinanzi al CUP, procedura già portata avanti in altre occasioni. A qualche ora dall'iniziativa però attaccano i sindacati. Con una missiva è stato negato il consenso, con una tempestività che per la CGL non è tale nelle attività sanitarie svolte. Il sindacato annuncia che non si fermerà di fronte a questo e continuerà a portare avanti quello che è un loro diritto.